Ciao a tutti strambodi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Sequestion e oggi siamo tornati con un nuovo bellissimo gameplay di Mullet Lovers e inizieremo il capitolo 7, Ruth, Ivan. Come all'inizio di ogni gameplay vi ricordo che se la mia voce è troppo lenta mettetela a doppia velocità, rimanete aggiornati sempre con i weeaboo monthly favorites, seguire la storia in evidenza Mullet Lovers su Instagram in generale, seguitemi perché vi do gli aggiornamenti più in live anche su Facebook va bene. E niente, io direi di continuare perché sono molto curiosa quindi concludi il capitolo 7. Quando mi sono svegliata qualcuno mi stava accarezzando dolcemente i capelli, mi sentivo così bene che mi ci vuole qualche secondo per aprire gli occhi. La mia guancia era premuta contro il petto di Ivan e avevo un braccio intorno alla sua vita, il suo braccio era intorno alle mie spalle. Quando finalmente ho aperto gli occhi ho notato che Ivan mi stava guardando, non ero sicura da quanto tempo fosse stato sveglio ma mi dava una sensazione calda e confusa vederlo lì e era rassicurante. Ciao tu! Sorrisi mentre gli grattavo dolcemente il petto in modo stuzzicante, poi mi sono seduta e l'ho baciato. Salve signore Avete dormito bene? Hai dormito bene? Sembrava tutto sorprendentemente naturale, era quasi strano, non sembrava importare che stessimo attraversando una situazione da incubo, che lui fosse un vampiro ed io un'umana, e non solo un'umana ma il suo calice. Ma non volevo preoccuparmi di niente in questo momento. I prossimi giorni saranno una sfida sufficiente. E' una sensazione divertente dormire accanto a qualcuno. Il suo viso si illuminò e iniziò a sorridere. La sera prima non era stato il solito goffo io, era... Per la prima volta nella mia vita mi è sembrato che qualcuno mi capisse davvero, Ivan non aveva appena esplorato il mio corpo. Era andato più in profondità e così avevo... non mi sarei mai aspettata di sentirmi così. Mi stavo preparando a baciarlo di nuovo quando all'improvviso mi bloccai e guardai la porta. Ivan si accigliò. Cosa c'è? Mi sembra di sentire qualcuno fuori dalla porta. Devi immaginare le cose, se ci fosse stato qualcuno avrei sentito anch'io qualcosa. Un secondo dopo la porta si apri facendomi gemere di protesta, Ivan si è subito alzato a sedere e mi sono stufata sotto le coperte. Cavolo Aaron, non puoi bussare. Ah beh, forse avresti dovuto dirci che non eri solo. Perché stai scherzando, scusami. Stai scherzando? Vuoi che metta anche un cartello sulla porta? Almeno ci aiuterebbe a evitare questo tipo di situazioni imbarazzanti. Ma scusa, bussare? Sbirciai oltre la coperta e vidi Aaron in piedi sulla porta con la mano ancora sulla maniglia. Sembrava sorpreso di vederci a letto insieme. Ma scusami. Ero così irrabbiata che ho dimenticato rapidamente quanto fossi imbarazzata. Per aiutarti Aaron, forse ti piacerebbe saltare a letto con noi già che ci sei. Sapevo che dovevo sembrare cattiva e sarcastica, ma ero stressata. Aaron alzò un sopracciglio. E beh, scusami, ma non puoi chiudere la porta e fare ok dopo. È un'offerta allettante, ma sto bene, grazie. Vuoi che la mia maglietta ti copra? No, ho i miei vestiti, grazie. Potresti almeno voltarti? Niente che non abbia visto prima. Mi dispiace se ti ho fatto sentire a disagio. Non pensavo di trovarti qui. È un po' tardi per le scuse, no? Mi avvolsi strettamente nella coperta, cercando in vano di mantenere la mia dignità. Ivan sembrava meno imbarazzato di me e scese dal letto per prendere il suo mantello e me lo avvolse intorno alle spalle. Aaron non sembrava sorpreso, preoccupato di vederlo andare in giro nudo. Così, vabbè, vabbè. Ivan sembrava meno imbarazzato. Vabbè, sì. Ah, ok, si sta ancora caricando. Buongiorno. Grazie. Oh, andiamo. Ci siamo ormai abituati. Praticamente viviamo uno sopra l'altro qui. Spero sinceramente che tu non lo dica letteralmente. Scusa. Non preoccuparti, capisco. Ivan aveva già cominciato a vestirsi quando il nostro imbarazzo svanì lentamente. Fu sostituito da una sensazione di tensione. Aaron guardava avanti e indietro tra noi e sembrava scegliere con cura le parole. Ivan mi ha passato i miei vestiti e ho cominciato a vestirmi sotto le coperte. Era imbarazzante ma dignitoso. Mi infila il vestito proprio mentre Aaron finalmente apriva la bocca. Quando penso che le cose siano già abbastanza brutte, Ivan trovi un modo per peggiarle. Non erano le parole che speravo di sentire. Immagino che tu sia arrabbiato perché finalmente sto ricominciando a vivere quello? Dubito che gli altri vedranno le cose in questo modo. Segui il tuo calice. Ad essere onesti non è una buona idea essere così intimi con lei. Ma che dici? Bene, è un bene che non ci importi di quello che pensa il resto di voi. Bene, dovrei iniziare a preoccuparti. Le nostre decisioni collettive avranno un impatto sul tuo futuro consecuico e al maniero. Ho sentito il mio stomaco abbassarsi. Di cosa stavo parlando? La situazione era davvero così grave. Pensavo che le cose stessero iniziando a migliorare e che finalmente avrei avuto la possibilità di costruire qualcosa con Ivan. Tutto stava per andare in discesa qui. Ma Ivan era imperturbabile. Lancia a dare un anno sguardo ostile. Quindi hai già deciso il mio futuro per me, è vero? Sei qui per pronunciare la sentenza di Vladimir? Non prendere la decisione finale. Dobbiamo essere tutti d'accordo. E prima di farlo ci sono alcune cose che devi spiegare. Inclusa la natura della tua relazione con Segui. Mi sembra che fosse abbastanza evidente da parte di tutte e due che stavano insieme in questo periodo. Posso chiederti come queste informazioni cambierebbero qualcosa? Perché bisogna sapere cosa sta succedendo tra di noi? Non dicevo nulla da un po' e Aaron sembrava sorpreso quando ho sentito la mia voce. Lascia che ti ricordi che Ivan è ancora in libera vigilanza, per così dire. Non possiamo ancora essere sicuri di come reagirà in determinate situazioni. Personalmente penso che la tua relazione possa spingerlo oltre il limite. Questa è tra me e Ivan. A rischio di sembrare antiquato o paternalistico, siete come due adolescenti ignari che dormono insieme in una delle case dei loro genitori. Siete entrambi membri di questa comunità, quindi dovrete preoccuparvi di ciò che pensiamo di voi. Le parole di Aaron sembravano schiaffe in faccia. Sapevo che eravamo giovani e che la nostra situazione era complicata, ma di certo non eravamo all'oscuro. Ma scusa, non puoi schiaffiare, non puoi utilizzare la carta. Scusate, questa è casa mia, sono la legittima proprietaria, dovete andarvene voi casomai, scusami. Ma le osservazioni di Aaron avevano fatto sorgere un dubbio nella mia mente. Mi stavo già chiedendo del mio legame con Ivan come suo calice, non ero sicura che stesse influenzando le nostre decisioni romantiche. Non c'era dubbio che fossi innamorata di Ivan, i miei sentimenti stavano diventando più forti man mano che lo conoscevo meglio. Ho capito che in fondo, sotto la sofferenza e il dolore della sua vita da vampiro, era una persona diversa. Ivan stava cercando di essere un uomo migliore grazie a me, lo era davvero. E dopo aver passato la notte insieme, ma avevo ancora i miei dubbi, proprio come quando pensavo che Ivan provasse ancora dei sentimenti per costanza. Vestitevi tutti e due e incontriamoci nel soggiorno principale, dobbiamo parlare, proprio adesso. Aaron si voltò a sera e andò senza dire un'altra parola, finalmente potevo alzarmi dal letto, non ero sicura di come comportarmi con Ivan dopo la nostra conversazione con Aaron. Ma mi prese tra le sue braccia e mi abbracciò, mi sono sentita subito meglio. Niente panico, non abbiamo fatto niente di male. Quanto a quello che è successo ieri sera, so perché ho fatto quel che ho fatto, andrà tutto bene. Non ero così sicuro, ma a noi alzai il viso per baciarlo, rimanemmo così per un po' prima di prepararci a scendere nella stanza principale. Potevo ancora sentire il mio cuore battere forte. Ho stretto forte la mano di Ivan mentre scendevamo le scale. Anche se eravamo stati interrotti da Aaron, mi sentivo ancora come in una bolla protettiva dopo aver passato la notte con Ivan. Sembrava che la terra si fosse mossa, so che sembrava un cliché, ma era vero. In poche ore avevo scoperto tante cose sul mio corpo e sulla mia sensualità. Avevo imparato così tanto su Ivan e su me stessa. Aveva significato molto per entrambi. Eravamo rimasti l'uno nelle braccia dell'altro per un'ora buona dopo. La premura e la considerazione di Ivan mi avevano aiutato a fare i conti con una marea di nuove emozioni e sensazioni fisiche. Mi sarebbe piaciuto avere un po' più di tempo per elaborare questo cambiamento radicale nella nostra relazione per capire come mi sentivo. Ma ovviamente non sarebbe successo, avremmo dovuto spiegarci agli altri e potremmo anche dover difendere la nostra relazione. E nessuno di noi due aveva davvero ammesso cosa stava succedendo. Speriamo di non doverlo fare davanti a loro. Ehi, starei bene? Mi sforzò di sorridere anche se ero davvero nervosa. Sapevo chi poteva dirlo e mi strinziò la mano per assicurarmi. Dai, andiamo. Ci stavamo ancora tenendo per mano quando entrambi nella stanza ci preparammo ad affrontare gli altri. Comma, con mia sorpresa Arun e Bellet erano gli unici presenti. What? Che cos'è questo? Una specie di agguato? Scusami? Dove sono gli altri? Pensavo che questa sarebbe stata una decisione unanime. Diciamo solo che vorremmo evitare di affrontare la tempesta a testa alta, vogliamo avere un'idea di quanto siano brutte le cose. Oh, perché sei il tipo di persona che evita i conflitti. Beh, almeno non riporto le mie vittime al maniero e non vado in giro a cercare di riconnettermi con i vecchi amici che non dovrebbero sapere che sono un vampiro. Ah, quindi vivi anche degli amici a un certo punto. Non farei commenti intelligenti se fossi in te, potresti comportarti da duro, ma so che sei innocuo come un gattino. Possiamo iniziare ora che siamo scambiati le formalità? Arun ci ha invitato a sederci dopo un attimo di esitazione e ci sistemamo sulle sedie. Mi sentivo come se fossimo messi all'angolo. Bellet sembrava più infastidito che arrabbiato e Arun era relativamente calmo, ma mi chiedevo perché gli altri non si fossero ancora presentati. Tutto a posto, mettiamo in chiaro una cosa. Bellet, Ethan e io siamo gli unici a sapere cosa è successo la scorsa notte, ma non l'abbiamo detto né a Vladimir né a Raphael. E perché? Perché pensi, piccola cosa sfacciata? Se Vladimir scopre che Ivan sta mettendo in pericolo tutte le nostre vite, lo rinchiuterà per il resto della sua vita o lo butterà fuori dal maniero dopo un bel pestaggio? E preferiremmo che noi si arrivasse a questo. Ivan è uno di noi, vogliamo proteggerlo. Cioè, se il danno non è già stato fatto. Ora, brividito, poteva sentire Ivan e reggidirsi accanto a me. Loic non sa niente, non per il maniero o quello che sono diventato, e ancora non ha idea del perché sono scomparso. Improvvisamente l'atmosfera nella stanza cambiò, nessuno di loro sapeva davvero di cosa avessero parlato Ivan e Loic. Arun iniziò ad osservare da vicino Ivan. Molto bene, Ivan, non ho bisogno di ricordarti che Belletta ha straordinari poteri di percezione quando si tratta dei sentimenti delle persone. Lo sappiamo tutti e sappiamo che usa quei poteri per portare la ragazza a letto. Che cosa? Ti aspettavi che li usassi per scoprire la tua bellezza interiore e per iniziare a prendermi davvero cura di te? Ha ragione, vecchio stronzo. Difficilmente, comunque quello che Arun sta cercando di dire è che se menti lo saprò immediatamente, quindi non cercare di gettare fumo ai nostri occhi, soprattutto perché lei sta vendicando me. I suoi poteri sono diventati più forti di giorno in giorno e saprà anche se stai mentendo, quindi tocca a te. Ho guardato Ivan e non l'avevo capito fino ad ora, ma Belletta aveva ragione, sapevo che il mio istinto mi avrebbe detto se il mio vampiro stava mentendo. Ivan tornò a guardarmi, poi si voltò verso Aaron e Belletta e fece un respiro profondo. Tutto a posto, quindi sai già che ieri sera ho incontrato un amico, qualcuno della mia vita precedente, e il suo nome è Loic, che era il mio miglior amico. Ivan è iniziato a murellare nervosamente sul tavolo. Io, prima di morire, avevo molti amici, ero particolarmente legata a loro due, Loic, un amico di infanzia e la mia ragazza Costanza. Anche il suo nome e il suo nome mi dava bruciare di stomaco. Sapete entrambi che periodo orribile ho passato quando sono stato trasformato, non ricordo quasi nulla di quei primi giorni. Tutto quello che so è che ero ossessionato dall'idea di ritrovare Costanza e riavere indietro la mia vecchia vita, ho rifiutato di accettare quello che mi era successo. Aaron mi narco un sopracciglio, ma non disse nulla. Ho avuto la mia parte di battute d'arresto e sono stato persino violento a volte, ma prima che arrivasse a sé qui, non avevo mai incontrato Loic o Costanza. Non li avevo mai incontrati. Era tecnicamente vero, ma anche così era andato a villaggio per osservarli da lontano. Ma vivevano ancora nella stessa città e questo lo sapevo. Ancora una volta la stanza d'acqua, Ivan sembrava esitare a continuare. Per un secondo fui tentato di intervenire per aiutarle a spiegare i suoi viaggi del villaggio. Ma questa era la sua responsabilità, non era ancora il mio turno di parlare e non era ancora al mio posto. E non era neanche al mio posto. Potrei anche confessare, negli ultimi anni ci sono state delle volte in cui sono andato al villaggio per osservarli da lontano in pieno giorno. Cosa hai fatto? Bagliate si era chinata in avanti e sembrava furioso. Come hai potuto fare una acrobazia così stupida e pericolosa? E perché? E quindi potreste spiarli, sei pazzo o qualcosa del genere? Bagliate, odiavo la mia nuova vita, ero ancora innamorato di Costanza e quando sono scomparso lo è che io e non eravamo in molti buoni rapporti. Ero ossessionato dal ricordo della mia vita da umano, quindi è vero, ero debole e volevo vederli. Per carità, è la cosa peggiore che avresti potuto fare e è un miracolo che tu sia sopravvissuta e che nessuno ti abbia notato. Avevo la sensazione che non gli sarebbe piaciuto quello che sarebbe successo dopo. In realtà è passato molto tempo prima che qualcuno mi prendesse e poi le cose si sono complicate. Che significa? Un giorno Loic finalmente mi notò. Entrambi i vampiri di fronte hanno erogito all'unisono, potevo dire che stavano diventando più arrabbiati di minuto in minuto e poi ho capito qualcosa. Loic si era imbattuto in Ivan perché stava cercando la persona che aveva seguito Costanza in giro e io ero quella che aveva avvertito Costanza di lui. È stato, oh mio Dio, è stata colpa mia in realtà. Ivan doveva averlo capito ma non stava dicendo niente, non potevo semplicemente sedermi lì e lasciare che si prendesse tutta la colpa. Aaron, beh, le attacce qualcosa che dovreste sapere, non è colpa sua, sono io quella da incolpare. Beh, avrei dovuto indovinare cosa ha fatto adesso. È colpa mia se loiclo ha beccato. La mia confessione è stata accolta in un silenzio assordante, non riuscivo a guardare Ivan e ero preoccupata che si sarebbe arrabbiato con me. Ti dispiacerebbe ripeterti? Cosa Dio vuole hai fatto? No, sei qui, non hai avuto niente a che fare con... Alzai la mano per interromperlo. Sì, io ero così arrabbiata e gelosa che non mi rendevo nemmeno conto che stavo rovinando le cose per tutti. Ti dispiacerebbe spiegarti. Io ho seguito Ivan quando usciva durante il giorno e la verità è che è successo più di una volta. Ho sentito le mie guance bruciare e Belletta si asciugò il viso per la frustrazione. Sembrava un padre preoccupato che non sapeva bene come affrontare la situazione. Cioia. Quindi, quando hai visto Ivan uscire durante il giorno non hai pensato di dirlo a uno di noi e non hai nemmeno fatto domande. Lo hai solo seguito? Per caso stavi cercando di scappare all'inizio? A noi imbarazzata. È vero, ne faceva parte. Poi ho capito che Ivan stava seguendo una giovane donna e ha iniziato a diventare gelosa. Volevo incontrarla. Non posso credere a questo! La vena sulla fronte di Belletta sembrava stesse per esplodere. Quando non è uno di voi e l'altro, che coppie siete entrambe ugualmente testardi, incapaci o addirittura ciechi? Non è molto carino paragonargli a Raffael. E potrei aver detto a Costanza di cercare l'uomo che la stava seguendo. Immagino che non è proprio così, che è andata a gioia. Immagino che ne abbia parlato con l'O e che ha finito per intracciare Ivan. Ecco perché sono stati in grado di riconnettersi in modo del tutto inaspettato. Ma gioia pure tu che racconti le cose a caccia di cane. Tu hai seguito Ivan perché volevi scoprire dove andava durante il giorno. Ti sei preoccupata perché stava andando a guardare le persone e pensavi che le volessi attaccare. Anche hai visto che seguivo quella ragazza e gli hai fatto sentire uno che ti segue. Stop! Non è che eri gelosa o altro. Semplicemente eri preoccupato per quella ragazza che ti rodeva il culo che questo di qua andava a fare omicidi a caso. Perché pensavi che fosse una persona pericolosa. Cioè, dille ste cose. È stato difficile confessare il mio terribile crimine. Ma non appena l'ho fatto ho sentito un enorme spesso sollevarsi dalle mie spalle. Non volevo che Ivan sia assumessi da tutta la colpa. Volevo ammettere le mie azioni e dire loro quanto Ivan e io avessimo lottato con le conseguenze. C'erano state così tante discussioni e incompressioni tra noi. Non volevo attraversarlo di nuovo. Volevo che continuassimo ad andare avanti insieme. Guardai Ivan con discrezione. Ero preoccupata. Con mio sollievo mi guardò con tenerezza negli occhi. Quindi se ho capito bene vi siete comportati entrambi come spie incompetenti. E quando hai parlato con la ragazza Loic ha iniziato a insospettirsi. Ma perché? Perché Loic è... Ora è sposato con Costanza. Sì, lo sappiamo già bene. Belletta si alzò e si sporse verso di noi con due pugni sul tavolo. Per riassumere, Loic che era il tuo migliore amico è riuscito a rintracciarti. E tu hai avuto la brillante idea di accettare il suo invito e di andare a bere qualcosa in modo da poter rispondere a tutte le sue domande. E hai scelto il bar più affollato del villaggio, Mundance, per fare la tua piccola discussione. E' stato incredibilmente rischioso Ivan. Se avessi avuto uno dei tuoi episodi le conseguenze avrebbero potuto essere catastrofiche. Lo so, ma so anche qualcos'altro. Ho messo la sua mano sulla mia. Poi con mia sorpresa lo sollevò sul tavolo in modo che Aaron e Bellett potessero vedere. Volevo parlare con Loic per un motivo molto specifico. Non era perché mi sentivo di riconnettermi con il mio passato. L'ho fatto perché ero finalmente pronta a lasciarmi tutte alle spalle per sempre. Ho iniziato a vedere dove stavo andando con queste. Volevo mostrare loro quanto eravamo diventati vicini e dare loro la sua parola che era pronta ad andare avanti. Ho iniziato a sentire le farfalle nello stomaco. Stava dicendo quello che pensavo stesse dicendo. Ero violenta e depresso perché non riusciva ad andare avanti. Ma poi è successo qualcosa, anzi qualcuno è entrato nella mia vita. Ora le nostre dita erano intrecciate. Ero senza parole. Non voglio più nascondermi, possiamo parlarne un'altra volta. Una volta che avremmo affrontato la situazione. Ma non stavo agendo solo d'impulso. È stata una decisione consapevole incontrare Loic. Speravo di riuscire finalmente a concludere quella notte. Ma al Moondance... Cavolo, per favore, non dirmi che hai altro da confessare. Loic mi ha chiesto di incontrare Costanza. Eccoci qui. Ho cercato di controllarmi fissando le nostre mani sul tavolo. Non volevo che la mia gelosia avesse la maiusa di me. Ne avevamo abbastanza di cui occuparci. Ora che belle a te stava sputacchiando di rabbia. Fuori questione, hai fatto abbastanza danni così com'è. Non ti permetterò mai di riportare il tuo ex idiota nell'equazione. Questo deve finire adesso. Vorrei supportare Ivan. Dopo tutto quello che ho fatto sembrerò un'ipocreta se gli suggerisco di vedere Costanza. Ma... Ivan si sarebbe incontrato con Costanza. Era inevitabile. Loic aveva ancora bisogno di essere ipnotico. Ipnotizzato dopo tutto e Costanza sarebbe stata lì. Mi sono girata verso Ivan e io sorriso mentre gli stringevo la mano. Lui ricambiò il sorriso con un'espressione di sollievo prima di voltarsi di nuovo verso Beliat. Non importa cosa, devo rivedere Loic per cancellare la sua memoria della nostra conversazione. Costanza sarà con lui, in ogni caso mi vedrà. E pensi davvero che ti lascerò parlare con lei? Devi stare sognando, li troveremo, li ipnotizzeremo e li manderemo a casa. Allora avremo finalmente finito con tutto questo. Oppure potremmo semplicemente lasciarlo fare a lui? Tutti rimasero scioccati dal suggerimento di Aaron e per un po' nessuno ha detto nessuna parola. Era serio? Non può essere serio, Aaron, come potresti suggerirlo? Non abbiamo ipnotizzato Loic e cancellato i suoi ricordi ed è assolutamente necessario che lo facciamo. Sarà una buona occasione per fare lo stesso con Costanza che ormai deve sapere che Ivan non è veramente morto. Aaron iniziò a fissare intensamente Ivan, sembrava molto determinato. Penso di aver capito cosa vuole fare Ivan, se fosse una persona fredda e logica gli direi che il rischio era troppo grande, ma in effetti penso che in realtà sia sempre più saggio con non reprimere le nostre emozioni. Ma stai scherzando? No, credo che Ivan debba salutarle. Le ruote hanno già iniziato a girare, qualunque cosa accada ho intenzione di cancellare tutti i loro ricordi di Ivan, non solo il ricordo della conversazione di ieri sera. Sussultai quando Aaron finì di parlare. Sembrava orribilmente estremo, per Ivan non sarebbe solo una rivederci, sarebbe la distruzione di tutto ciò che una volta condivideva con i suoi amici, sarebbe come se non fosse mai esistito. Ma Ivan non ha avuto alcuna reazione. In questo modo Ivan avrà la possibilità di salutarli e non avremo nient'altro di cui preoccuparci. C'è una condizione, verrò con te e non solo perché ho intenzione di ipnotizzarli. Cosa intendi? Il nostro sospettato di omicidio è tornato nella zona, lo sento, ed è fuori discussione, che qualcuno lascia il maniero non accompagnato. Voglio affrontare questa crisi il prima possibile, così possiamo concentrarci sulla ricerca dell'assassino. Che cosa? Mi sentivo come se avesse ricevuto un pugno allo stomaco. Con tutto quello che stava succedendo mi ero completamente dimenticata di quell'orribile situazione. Mi avete sentito? Pensavamo che fosse un omicidio casuale, ma ieri ho rilevato il suo odore. Era solo una traccia, ma significa che è tornato. Ho iniziato ad avere dei flashback della notte della festa e ho stretto la mano di Ivan, così forte che mi faceva male. Mi girava la testa e Ivan stava per vedere Costanza, stava per dire addio al suo miglior amico ed ex fidanzata. Nel frattempo c'era la possibilità che saremmo stati attaccati da un momento all'altro. Voglio venire con te. Mi c'è voluto solo una frazione di secondo per prendere la mia decisione. Quella notte sarebbe stata una pietra miliare nella vita dell'uomo che amavo, non c'era modo di essere esclusa da questo e non avrei nemmeno provato a spiarlo, non questa volta. Tutti e tre vampiri hanno iniziato a protestare contemporaneamente, ma ho alzato la mano per interromperli. Ho continuato con voce ferma. Puoi dirmi di non venire, puoi rinchiudermi o cercare di costringermi a restare nel maniero, ma ho il diritto di essere lì con te. Tu non... Adesso faccio parte della vita di Ivan e ne farò parte, sempre parte. In parte sono da biasimare per tutto quello che sta succedendo e non sono stata coinvolta fin dall'inizio, ma ha quasi portato al limite e so quanto sia importante per Ivan. Mi lo guardai prima di rivolgermi a bellette Aaron. Ho un ruolo centrale in questa storia, manterrò le distanze con Aaron e userò i miei poteri per rilevare eventuali minacce imminenti. Voglio dire, voglio venire, così possiamo farla finita con questa sera, con questa storia. Non sono affari tuoi, sei solo una estranea qui, non voglio che ti intrometti nei nostri affari. Vorrei che venisse con noi. Mi girebbe affrontare Ivan, l'avevo sentito bene. E ti sbagli, bella, te leggio col ruolo importante in questa storia. È il mio calice, voglio passare la mia vita con lei. Vedi io che vedo in prima persona che non provo più sentimenti per costanza. Non sono un terapista di coppie, dannazione, questo non è un nostro problema. Aaron? Ivan e io ci siamo rivolti ad Aaron, era la nostra unica possibilità. Bellette gli lancia uno sguardo furioso. Dopo aver ascoltato il tuo toccante discorsetto sulle emozioni, suppongo che tu sia dalla loro parte ragione. Penso che abbia ragione, i suoi poteri potrebbero tornare utili. Bellette era furiosa, ma sapeva di aver perso questo round, ha preso a pugna l'aria. Meraviglioso, non venire a piangere da me quando qualcosa va storto. Stasera ripuliamo il tuo casino, niente epiloghi lacrimosi o discussioni infinite. Vai, finisci il lavoro e torni indietro, fatto? Ho accettato freneticamente, il mio cuore batteva così forte che pensavo che sarebbe saltato fuori dalla mia cassa toracica. Ivan si alzò, seguito da Aaron, eravamo tutti in uno stato frebile, dovevamo andare in fretta o avremmo perso l'appuntamento con lei che costanza. Ivan, dovrei lasciare la mano della tua amata, ora fai strada. E non dimenticare, dobbiamo ancora parlare della tua relazione. Va bene papà, ok Aaron, dovrei camminare per circa 30 piedi davanti a te. Sì, ti seguirò con sé qui, ci nasconderemo nella foresta. E sia chiaro, se c'è il minimo problema o dubbio, ci giriamo e torniamo indietro, la sicurezza prima, inteso. Ivan e io annuim entrambi, è ora di andare avanti, mentirei se dici sì che sono calma. Andiamo a... no, perché la biblioteca, sono rincoglionita. Ok, foresta. Ho smesso di fingere che andasse tutto bene. Ivan sarebbe andato a trovare costanza quella sera e il solo pensiero mi fece provare anzi gelosia allo stesso tempo. Non avevo dimenticato quello che mi aveva detto quando abbiamo passato la notte insieme o almeno quello che aveva iniziato a dirmi. Ma era ossessionato da costanza da anni e per tutto quel tempo non le avevo parlato una volta, quindi sì, avevo paura di quello che sarebbe potuto succedere più tardi quella notte. E per di più, c'è un assassino a piede libero, ci eravamo praticamente dimenticate di lui per un po' e poi era improvvisamente spuntato fuori dal nulla. Ero contenta che avessimo Aaron con noi e che per una volta non dovevo nascondermi. Sei sicura di voler essere lì quando lui la vede? Guarda Ivan che camminava davanti a noi, ho sentito un nodo allo stomaco. Ho bisogno di fare questo. Ultimamente mi giro molto di nascosto e voglio ricominciare da capo e ho bisogno di saperlo. Ti rendi conto che potrebbe farti male sentire quello che hanno da dire, vero? Sì, ma se voglio avere una possibilità con Ivan, devo superare il mio ego e i miei sentimenti di gelosia. E tu, pensi ancora che sia una buona idea? So che stiamo facendo la cosa giusta, Ivan ha bisogno di lasciare questa parte della sua vita. E io devo cancellare i ricordi dei suoi amici, così possiamo concentrarci su cosa succede dopo. Ero ancora tormentata da una domanda senza risposta. Vladimir lo scoprirà? Aaron mi lancia un'occhiata. Dipende da cosa succede stasera. Stavo per continuare quando ho iniziato ad avere una sensazione spiacevole, era come un suono sordo nella mia testa. Anche Aaron si era fermato di colpo, stava guardando dritto davanti a sé accigliato. L'hai sentita anche tu, vero? Io penso, non sono sicura. Sembrava che fossimo in pericolo, non era la prima volta che provavo questa sensazione. Qualcosa è sbagliato, vieni con me. Ci affrettammo a raggiungere Ivan, che sembrava non essersi accorto di nulla. Aaron lo afferrò per la spalla. Stai attento, Ivan, non ne sono sicuro, ma credo di riconoscere quel profumo. E non mi piace, potremmo doverci, doverci, dover voltarci. Ho sbagliato. Ma stai scherzando? Siamo quasi al punto di ritrovo. E c'è qualcuno di pericoloso in giro, rappresenta una minaccia per lui e che costanza? Non è un mio problema. So che se ho anche il minimo dubbio, interrompiamo la missione e torniamo al maniero. Dobbiamo proteggerci, inteso? Ivan fissò Aaron per qualche secondo. Si voltò senza guardarmi. Potevo dire che le cose si sarebbero complicate se la minaccia fosse stata reale. Siamo in pericolo? Non lo so, per il momento siamo al sicuro, altrimenti i miei sensi sarebbero in allerta. Ma non ho ancora un buon presentimento al riguardo. Tieni la testa alta, ok? Poi all'improvviso ho percepito qualcos'altro. Eravamo arrivati al punto di incontro. Ivan si è rivolto a noi non appena ci siamo fermati. Sembrava essersi completamente dimenticato della minaccia imminente. Bene, eccoci qua, cercherò di essere breve, non farti vedere, comunque torno subito. Ivan mi guardò per qualche secondo, poi si chienò per baciarmi. Poteva sentire la sua mano sulla nuca. Stiamo rimasti così per un po' e ho avuto il tempo di assaporare il sapore delle sue labbra. Poi si staccò, mi guardò un'ultima volta e cominciò a camminare nella foresta. Mi accucciai accanto ad Aaron e cercai di trovare un buon punto di osservazione. Li vedi? No, è strano, percepisco solo un'altra persona. Anch'io. Ci siamo scambiati degli sguardi, poi abbiamo iniziato ad avanzare con cautela nella direzione di Ivan. Eravamo così furtivi che riuscivamo a sentire i nostri passi. Stavo diventando sempre più consapevole del mio corpo. Era come se potessi controllare anche il minimo movimento muscolare. Mi sentivo forte. I miei nuovi poteri mi hanno dato la sicurezza di andare leggermente più avanti di Aaron per vedere cosa stava succedendo con Ivan. Ma perché la ragazza non è lì? Stavo per fare la stessa osservazione. Ivan stava conversando animatamente con Loic. Non c'era ancora traccia di costanza. Ivan sembrava turbato e Loic sembrava teso. Prendendo fiato ho chiuso gli occhi e ho teso le orecchie per ascoltare la loro conversazione. Non mi credi. Il che è comprensibile. Pensa che fossi solo esausto dal lavoro e che ti avessi confuso con qualcun altro. Non volevo venire stasera. Non posso tornare a casa tua, Loic. È troppo rischioso. Tornare a casa loro. Ma che sta scherzando. Saremo molto discreti. So che ha paura di scoprire che sei davvero vivo. Avresti dovuto vedere l'espressione sul suo viso. Non vuole credermi ma comincia ad avere dei dubbi. La sta uccidendo. Devi tornare con me. Sto davvero cercando di usare il ricatto emotivo. Potevo vedere quanto fosse arrabbiato Ivan. Stava esitando. Poteva immaginare come si sentisse. Ma non potevo lasciarlo fare. Sta cercando di manipolare Ivan. Ricevo solo frammenti della loro conversazione. Riesce a sentirli? Sì, Loic vuole che Ivan torni a casa sua in modo che possa parlare con Costanza. Si è rifiutata di venire perché non crede che sia ancora vivo. Che cosa? Non era questo il piano? Loic ha già detto a Costanza di Ivan. Quindi dobbiamo ancora cancellare i suoi ricordi. Che casino. Ho teso ancora una volta le orecchie per riegliare la loro conversazione. Adesso stavano litigando. Ho fatto del mio meglio, te lo prometto. E ti dico che non possiamo farlo al villaggio. Ho già corso troppi rischi. Tu sei quello che voleva che parlassi. Sto solo cercando di proteggerla, Ivan. Non è quello che vuoi. Un po' sentivo che Ivan dubitava di se stesso. Era ancora in grado di percepire le sue emozioni. Stavo per cedere. No, non è possibile che succeda. Prima che Aaron potesse fermarmi, mi alzai e iniziai a correre verso Loic e Ivan. Segui, cosa stai facendo? Torna qui. Mi sono schiantata tra i cespugli della radura. Entrambi gli uomini sono saltati quando mi hanno visto. Li avevo presi allo sprovvista. Gli occhi di Loic erano grandi come piatti della cena. Oh, illustrazione. Che figo. Figo, figo. Mi fa piacere. Ivan è meno secco, diciamo, nell'illustrazione. Io preferisco versione secca. Tu sei quella ragazza che è venuta al negozio l'altro giorno. Cosa stai facendo qui? La pianta, l'avevo completamente dimenticato. Segui, non dovresti essere qui. Lo so, ma non ti lascerò andare fino in fondo. Sta cercando di manipolarti. Cosa sta succedendo qui, Ivan? Conosci questa ragazza? Aspetta un secondo. Sei stato tu ad avvertire costanza di Ivan. Sì, è complicato. So solo che sei subdolo e stai cercando di ottenere qualcosa di Ivan. Ivan, qual è il significato di questo? Faceva parte del tuo piano fin dall'inizio. Non ho pianificato niente. Mi sono comportato da stupida ed egoista per anni. E segui era preoccupata per me, ha finito per incontrare costanza per caso. Per anni? Ci stai spiando da anni? Sì, e non ne vado fiero, ma questa è la realtà. Da quando sono scomparso non è passato un giorno senza che io pensassi a costanza. O tebs è per questo. Ma io non capisco. Perché non avresti provato a parlare con noi? Perché dovevi essere così misterioso? Non posso dirtelo. Non senza costanza. Qui è l'unico modo per dirti addio. Pensi che io sia una specie di sciocco, Ivan? Perché non dovresti dirci la verità e poi sparire di nuovo? Sei vivo. Possiamo ricominciare da capo. No, tu hai le tue vite e io la mia. Una volta che ci separiamo, le nostre strade non devono mai più rincontrarsi. Devo dire addio di costanza. Non posso andare avanti così. Mi ha toccato la mano e il mio cuore ha iniziato a battere più forte. Loic sembrava furioso. Fui sorpreso di vedere la sua espressione cambiare così all'improvviso. In pochi secondi il suo viso era riempito di odio. C'era così tanto odio nei suoi occhi. E poi è successo tutto in una volta. What? Aaron è emerso improvvisamente dalla foresta. Loic rimase sbalordita e fece un passo indietro. Sobalzai di sorpresa e mi avvicinai a Ivan che ringhiava di rabbia. Aaron, cosa ti è preso? Questo deve finire adesso. Stiamo andando a casa, proprio adesso. Cosa sta succedendo? Chi è questo ragazzo? Pensavo venissi da solo. Prima lei, poi questo ragazzo. Che diavolo sta succedendo? È complicato, non posso... No, non puoi dirglielo e non dirai un'altra parola. Stiamo andando a casa subito. Lascia che lo ipnotizzi e... Non c'è modo, non te lo permetterò. Almeno finché non avremo risolto questo casino. Mi ipnotizza Ivan. Di cosa si tratta? Non so se cosa volete voi due, ma non avete il diritto di impedirmi di vedere Ivan. Ivan, vieni con me. Se sei in pericolo, sarai al sicuro con me a casa. Silenzio. Volevo dire qualcosa, ma prima che potessi ho iniziato a sentire un basso brontolio. Veniva dalla gola di Aaron e era un ringhio profondo che migelava il sangue. Gli occhi di Aaron stavano cambiando, brillavano intensamente. Stava iniziando a spaventarmi. Ivan afferò le braccia di Aaron e cercò di tirarlo via gentilmente. Sembrava che fosse combattuto tra due possibili linee di azione. Continuò a guardare avanti e indietro tra noi e Loic. Loic poi rugì di frustrazione. Loic fatene da qui. Io devo andare, mi dispiace. Vai a casa, affrettati. Ma Ivan, no, non dobbiamo... Seque, aiutami. Aaron non sembrava essere se stesso. Lo presi nervosamente per un braccio e aiutai Ivan a portarla via. Senza guardare Loic, abbiamo iniziato ad allontanarci dal punto di ritrovo. Non ho potuto fare a meno di girarmi per vedere se Loic ci stava seguendo. Non volevo che scoprisse il segreto del maniero. Ma Loic sembrava essere scomparso. E quando lo fece non sentivo più che eravamo in pericolo. Io, Ivan, cosa sta succedendo? Aaron, ci senti? Non c'è tempo per spiegare. Avrà bisogno di un po' di tempo per calmarsi. Tutto dovrebbe essere a posto una volta tornati al maniero. Ah, che incubo. Potevo sentire quanto fosse teso il corpo di Aaron. Aaron aveva smesso di ringhiare ma i suoi occhi brillavano ancora mentre ci seguiva senza opporre resistenza. Che cosa era appena successo? Con mio grande sollievo Aaron si era calmato quando arrivamo in giardino. Ci finalmente a lasciarla andare. Quando ho fatto un passo indietro ho notato che i suoi occhi erano tornati normali. Grazie, le cose dovrebbero essere a posto ora. Le cose dovrebbero andare. È una sorta di scherzo. Ivan era rimasto in silenzio durante il viaggio di ritorno ma sembrava sul punto di esplodere. Ho insistito per scontrarmi perché pensavi che sarei stata in grado di controllarmi. Ma sei tu che l'hai perso? Sei fuori di testa? Questa volta non sono stato io quello che ha quasi fatto saltare la nostra copertura. Eri tu? Credi che volessi unirmi alla tua conversazione? Ivan, per favore. C'è un motivo se sono sopravvissuto per più di cinque secoli. Ho visto che c'era un problema. Loic stava ovviamente oltrepassando i suoi limiti. Qualcosa mi dò fastidio. Avevo avuto la stessa sensazione di Aaron, motivo per cui avevo anche interrotto la conversazione. Era come se potessi intuire che stava per succedere qualcosa di drammatico. È una sciocchezza. Perché non avrei dovuto intuire qualcosa che non andava? Lui che è solo un umano, per carità. Cosa stavi pensando? Non sono ancora sicuro. In ogni caso è ancora una minaccia per noi finché sa che sei vivo. Finché sa che sei vivo. Ma in questo momento abbiamo una minaccia ancora più grande da affrontare. Cosa intendi? L'odore che ho rilevato era l'assassino della festa. Mi sentivo come se il mio cuore fosse in gola. Sei sicuro? Lui era lì? Era da qualche parte nelle vicinanze. Non ho idea se fosse a 5 miglia di distanza o a un centinoio di metri da noi. Ma dovevamo riuscire in fretta da lì. Che cosa? E hai lasciato Loic lì a cavarsela da solo senza nemmeno dirmelo? Come stavo dicendo? C'è qualcosa di sospetto nel tuo amico. Non riesco proprio a metterci il dito sopra. Ma è fuori discussione che tu lo veda di nuovo finché non risolviamo la cosa. C'era un'espressione scioccata sul viso di Ivan. Ma è stato pronta a negare tutto. Ma stai scherzando? Non possiamo semplicemente metterlo da parte. Non in un momento così critico. Vuoi parlare dei momenti critici? C'è un pericoloso assassino a piede libero e probabilmente abbastanza forte da attaccarci. In questo momento la nostra sicurezza è la mia priorità numero uno. Ma io per la nostra protezione dovremmo unirci per rintracciare questo vampiro e dobbiamo assicurarci che non torni. Dopodiché dobbiamo assicurarci che tu rimanga al maniere in modo da non mettere in pericolo nessun altro. Ivan stava per essere rinchiuso ancora proprio quando era così vicino all'incontro con Costanza. Sapevo che Ivan non si sarebbe arreso anche se la sua conversazione con Loic era stata interrotta e non aveva avuto il tempo di fissare un appuntamento per incontrare Costanza. Non dovremmo essere fuori. Vado a vedere Beilat. Dobbiamo rintracciare questo vampiro il prima possibile. Voglio che voi due stiate qui dove resterete al sicuro. Mi sono spiegato. Ma non è troppo rischioso lasciare Loic da solo per qualche giorno se non abbiamo cancellato i suoi ricordi? E se raccontassero a qualcuno di Ivan? Di chi sarebbe la colpa se ciò accadesse? Devi accettare le conseguenze delle tue azioni. Faresti meglio a spiegare che non parli con nessuno perché noi poi dovremmo coinvolgere Vladimir. Grande. Affrettati, non ho intenzione di ripetermi. Dai, Ivan. Gli presi delicatamente la mano per portarlo via. Potrei dire che era deluso e pieno di rabbia. Aaron è partito come un fulmine e ha aspettato che se ne fosse andato per sussurrare qualcosa all'orecchio di Ivan. Torniamo in camera mia. È tranquillo lì e possiamo parlare. Se vuoi. Avevo alcune domande su Loic. Ho preferito farla in privato. Perché in camera vostra si parla? Cioè, scusami. Ci siamo imbattuti in Beilat nell'ingresso. Ci ha lanciato uno sguardo furioso ma al momento sembrava che avesse pesci più grandi da friggere. Abbiamo anche incontrato Vladimir e Rafael. Per fortuna non hanno fatto domande. La situazione stava diventando molto grave. Ho iniziato a calmarmi una volta che eravamo nella mia camera da letto. Mi sentivo più a mio agio lì che nella stanza di Ivan. Era un posto che non ho finito di leggere. Che strana notte. Puoi dirlo. Ivan sembrò un po' più timido ora che era nella mia stanza. Continuò a guardarsi intorno imbarazzato come se fosse fuori posto. La sua timidezza era quasi accattivante. Lo condussi al mio letto e ci sedemmo entrambi. Gli ho messo una mano sulla guancia e ho iniziato a strofinarci come un gattino affettoso. Che carino. Il mio cuore stava scoppiando. L'ho abbracciato. Non ha resistito e mi ha persino abbracciato con un profondo sospiro. Mi appoggiai a lui e cominciò ad accarezzare gli capelli. È stato così bello che sono rimasta per alcuni minuti prima di dire qualcosa. Ivan, lo so, vuoi parlare di quello che è successo nella foresta con Loic? Non possiamo più rimandare. Sì, hai ragione. Sembrava prenderlo meglio di quanto mi aspettassi. Forse si sentiva calmo perché ero lì o forse perché eravamo nell'intimità della mia camera da letto. Ha fatto un respiro profondo. So che le cose non sono andate come volevi ed è in parte colpa mia. Beh, anche Aaron non è stato di grande aiuto. Non ho idea di cosa accadrà dopo ma farò di tutto per vedere Costanza un'ultima volta, lo sai. Ovviamente. So che è importante che tu la saluti ma a quanto pare ci sono questioni più urgenti da sbrigare. Per me non c'è niente di più urgente di questo. Questa volta ero sicura che avesse notato il mio cipiglio. Oddio, ancora Costanza. No, non è quello. In effetti sto bene in generale. Mi ci sono abituata come puoi vedere. Comunque ho smesso di soffermarmi sulla situazione. Ma sai che continuerà a succedere finché non ce ne occuperemo. Sì, ed è vero. A volte può essere difficile per me. Come trovi a dirlo? È semplice e complicato allo stesso tempo. Semplice perché capisco che vuoi vederla. Perché fa parte del tuo passato e tutto il resto. E perché è complicato? Perché le emozioni sono complicate. Non riesco a controllare completamente come mi sento. E a volte, anzi, molto spesso, mi sento impotente. Ma starò bene. Prima che potessi finire la frase, Ivan si chiede a me e mi abbracciò forte. Ed eccomi qui, in attesa di una discussione. Ma sembrava che finalmente fossimo riusciti a mettere le cose a tacere. Ma dovevamo ancora parlare di Loic. Sto cercando di fare uno sforzo con costanza. Ma devo ammettere che Loic, beh, c'è qualcosa in lui che non mi sta proprio bene. Non importa cosa pensiate tu o Aaron, Loic è una brava persona. Cosa ti fa pensare di poterti fidare così tanto di lui dopo tutti questi anni? Non vedi che c'è qualcosa di sospetto in lui? Io ne ho miso un profondo solo spiro. Loic è una persona tranquilla, a cui piace stare per sé. È cresciuto in una famiglia adottiva ed è stato vittima di bullismo da bambino. Dovevo proteggerlo dagli altri studenti a scuola. Se è cresciuto in una famiglia affidataria significa che ha perso i suoi genitori come ho fatto io. O forse lo hanno abbandonato. È un ragazzo fantastico, è intelligente, leale, onesto, è degno di fiducia. Lui era il mio migliore amico. Era un po' un delinquente e lui mi ha aiutato a diventare una persona migliore. Veramente, sembra un po' introverso. È solo la prima impressione che la maggior parte delle persone ha di lui. Lo prendevamo in giro per questo. L'unica volta che l'ho visto perdere la calma è stato quando gli ho dato dei momenti difficili. Abbiamo finito per litigare. Che cosa intendi? Yvonne si è allontanato da me e non sembrava essere un ricordo piacevole. Ero un bastardo. E una sera eravamo a Mundencio e ho iniziato a flirtare con costanza. E l'ho fatto nel pergior modo possibile. Mi sono comportato come un grande spendacione cercando di impressionarla. E hai preso in giro Loic per farti bello. Era qualcosa che avevo sperimentato molte volte prima. Yvonne sembrava vergognarsi del suo comportamento. Più o meno sì, è stato davvero patetico da parte mia. Ho approfittato della sua gonfaggine e ho esaltato la sua reputazione di solitario. E la peggiore parte è che... Che cosa? Dovevamo festeggiare la laurea di Loic. Aveva superato gli esami a pieni voti ed era estremamente orgogliosa di se stesso. Yvonne, stai cercando di dire che invece di celebrare il successo di Loic stavi flirtando con costanza? La donna che ha finito per sposare? In poche parole, sì. Te l'ho già detto, era patetico. Abbiamo avuto una terribile discussione una volta usciti dal club. Loic era curioso e ferito e aveva il diritto di esserlo. È finita davvero male. Cosa intendi? Abbiamo avuto una scazzottata. Ero davvero andato troppo lontano e la cosa peggiore è che ho continuato a insultarlo. Non pensavo si sarebbe arrivato a quel punto. Ero un Alec intelligente e l'ho provocato. Doveva succedere. Loic ha perso il controllo e mi ha preso a pugni. Ho finito per rompermi il cranio contro un muro di mattoni. Oh mio Dio. Ti sei fatto tanto male? No. Sì, è stato piuttosto brutto. Non si è accorto che avevo perso conoscenze e ha continuato a colpirmi quando ero a terra. Il che ha solo pergiolato le cose. Ho finito con una grave commozione cerebrale. Quanto grave, santo cielo, Ivan. Anche se eri un idiota, ha davvero reagito in modo esagerato. So che stavi litigando, ma non ero una ragione per picchiarti. Ero il suo mio amico. Sarei morto se non avessi ricevuto immediatamente cure mediche. È stato lui a chiamare il 911. Sei quasi morto, Ivan. Dopo tutto quello che mi hai appena detto, devi ammettere che il ragazzo ha un problema. E poi ha sposato la tua ex fidanzata, oh mio Dio. Stai dicendo che qualcuno dovrebbe avere problemi mentali per voler sposare Costanza? Era possibilissimo. Non è questo il punto. Mi hai appena detto che sei quasi morto. È stata allora che sei stato trasformato. No, io non ricordo niente di quello che è successo quando sono stato trasformato. Oh. Si era un po' calmato. Non potevo rimanere arrabbiata con lui dopo che mi aveva appena detto una cosa così orribile. Non ricordi cosa è successo? Affatto. Beh, scusa, non voglio costringerti a parlarti. Non voglio costringerti a parlarti. Vabbè, ma è la verità. Non so quando o come sono stato trasformato in un vampiro. Ma come è possibile? Di solito succede così. Non sempre, ma nel mio caso l'ultima cosa che ricordo è che mi preparavo per andare a Mondense. E poi sono svenuto. Era strano. Pensi di poter reprimere alcuni di questi ricordi per proteggerti o qualcosa del genere? Oh, io davvero non lo so. Non me ne sono mai chiesto davvero. Volevo dimenticare tutto quello che era successo quella notte. Un milione di domande mi sono venute in mente. Mi sentivo come se fossi su qualcosa. Eri da solo? C'era anche Loic lì? Avete mai parlato dopo il combattimento? Smettilo. Non ricordo che Loic fosse lì. Tutto quello che so è che ero con costanza in quel momento. Costanza? Era tutto quello che ricordava di quella notte. Come avrebbe potuto dimenticare il resto? Mi stavo frustrando. Era come se avessi tutti i pezzi del puzzle, ma non riuscivo a capire come metterli insieme. Smettilo, so che devi pensare che abbiano qualcosa a che fare con me, che sono stato trasformato. Ma sono umani, non è possibile. Come puoi esserne sicuro? Spero che tu non pensi che siano stati coinvolti in qualche modo. Mi sono morse in labbro. In realtà la situazione era troppo sospetta per me per credere che Loic e Costanza fossero completamente innocenti. Potrebbero anche essere stati coinvolti. Che forse avevano anche qualcosa a che fare con l'omicidio al maniero. E se fossero in qualche modo collegati a vampiri? Il mio istinto mi diceva che c'era del vero nella mia teoria. Che fosse Costanza o Loic. Ero sicura che uno di loro fosse coinvolto in un modo o nell'altro. Loic stava proteggendo Costanza. O stava cercando di gettare fumo nei suoi occhi in quel modo che non scoprisse chi era veramente. Forse è per questo che si sono sposati. Comincio perfino a pensare che quei loro due stessero lavorando insieme. Ma se gli dico la mia teoria non mi crederà mai ma comunque. Devo fidarmi del mio istinto. Non ho tutti i pezzi del puzzle ma penso davvero di aver capito qualcosa. Ho bisogno di trovare altri indizi per dimostrare che sono loro prima di fare una cosa seria. Mi dispiace davvero doverlo nascondere a te, Ivan. Ma so come reagirai. Dico solo che mi sembra un po' strano. Non so come ma penso che possano essere collegati in qualche modo a quello che è successo tra a te e a quella ragazza alla festa. Per l'amore del cielo, tu... Ti ho detto che non sono sicura, è una teoria. Non ti sto... non sto accusando nessuno. Sto solo cercando di andare in fondo a questa storia. Pensi di abbastanza, non mi interessa cosa pensi. Li vedrò di nuovo e poi ti renderai conto di aver sbagliato. Beh, per farlo dovresti lasciare il magnero. Allora dovresti convincerli a parlarti di nuovo. Quanta costanza... Quanta costanza cosa? Forse intenzione di spiarli per vedere se riesce a trovare qualche indizio. Ho saltato con sorpresa. Dessere onesti era esattamente quello che avevo pensato di fare. Ma ho messo una faccia da poker e ho tirato fuori il mento con aria di sfida. Ho aperto bocca pronta per un ritorno. Speravo di cambiare argomento. Proprio in quel momento fumo interrotti da un forte rumore proveniente dalla porta di ingresso. Potevamo sentire la gente gridare e poi passi affrettati. C'era una sensazione generale di panica e urgenza. Ci siamo guardati l'un l'altro. Cosa stava succedendo al piano di sotto? Continueremo con questo argomento più tardi. Andremo a vedere cosa sta succedendo. Wow, ma... Che cosa? Che cosa hai... Mi misi una mano sulla bocca e mi affra... Eh, fra il berce di Ivan. Sono rimasta in un'ora di dita per quello che ho visto. C'era una bozza di sangue in fondo alle scale. Una nauseante, odore metallico e stava già colpendo le nostre navici. E in mezzo a tutto questo il corpo di Bellet era appoggiato sui gradini più bassi. No, no, no. Gli altri vampiri lo stavano accudendo preoccupati. Bellet? Che di quello sta succedendo? Ci siamo precipitati al piano di sotto. Da vicino sembrava che Bellet fosse stato fatto a pezzi. La sua camicia era strappata e brandelli aveva grossi tagli sul petto. Sono quasi svenuta per il sollievo quando ho visto i suoi occhi spalancarsi. Era vivo. Cosa è successo? Va bene, sul serio. Puoi darci un po' di spazio, branco di idiota? Fammi fare il mio lavoro. Nel panico non avevo nemmeno notato Ethan che era in ginocchio accanto a Bellet e rimuoveva i pezzi di tessuto dalle sue ferite. Non sono riuscita a tirare fuori i paloi. In ogni caso non sapevo molto di pronto soccorso e Bellet era in condizioni così terribili che probabilmente non sarei stata di alcun aiuto. No, non puoi. Giudicare dallo sguardo sul tuo viso lo sai. Quindi allontanati e dagli un po' d'aria. Sei qui. Ivan, per favore, fate un passo indietro. Ethan sa cosa sta facendo. Ho saltato con sorpresa a Vladimir in piedi proprio dietro di noi a giudicare delle macchie di sangue sul sullegante giubbotto. Era abbastanza sicuro che avesse aiutato a riportare Bellet al maniero. Vladimir, cosa sta succedendo? Che fine ha fatto Bellet? È stato attaccato dal nostro sospettato di omicidio. Bellet e Aaron erano a circa 100 piedi dal maniero quando cadde una imboscata. Un'imboscata. E Aaron? Sto bene. Aaron era rimasto in disparte e ora si stava avvicinando a noi. C'erano macchie di sangue sulla sua maglietta ma sembrava essere in buona forma, con l'eccezione di un grande squarcio sul braccio. Grazie a Dio. È successo tutto così in fretta quando sono venuto in soccorso di Bellet. Quella palla di melma era già sparita. Aveva lasciato Bellet per morto. Ho riportato Bellet al maniero il più velocemente possibile. Se non fosse un tale combattente non sarebbe vivo. Oh mio, ma che... Oh mio, ma che mi dici del vampiro? È semplicemente svanito senza lasciare traccia. Comunque la mia priorità era riprendermi cura di Bellet. Non c'era l'una stasera, quindi non abbiamo nemmeno visto arrivare il ragazzo. Né tu né Bellet avete visto niente, anche con i tuoi sensi acuti. Niente di niente, non ho mai visto niente di simile prima, a parte il suo modo di attaccare. Non sembrava nemmeno comportarsi come un vampiro. Non sembrava comportarsi come un vampiro? What? Questa rivelazione ha confermato quello che avevo detto prima a Ivan. Forse ero paranoica, ma se Loic fosse in qualche modo collegata a tutto questo? Potrebbero sembrare una domanda stupida, ma sei sicuro che abbiamo a che fare con un vampiro? Vladimir si voltò verso di me, sembrava confuso. Chiedo scusa. Io, è solo che so che Bellet è molto potente, ma comunque questa creatura è stata in grado di... Il mio sguardo si spostò sul Bellet, che era ancora sotto la cura di Ethan, per la seconda volta quella notte. Ho quasi vomitato quando l'odore del sangue mi ha colpito con forza. Bellet. Qualunque cosa sia questa cosa, ha fatto a pezzi belli a te, se non fosse un vampiro? Era un vampiro, ho riconosciuto il profumo, sarebbe impossibile confonderlo. Ma non è possibile che ti sbagli, esistono altri esseri, altri tipi di esseri soprannaturali? Un milione di domande e possibili risposte mi stavano saltando in testa e tutte in una volta. Beh, sì, ad essere onesti ci sono altri tipi di esseri soprannaturali, non è necessario che tu sappia di loro in questo momento. E in questo caso poteva essere solo un vampiro. Come puoi esserne sicuro? E se ci fossimo imbattuti nell'assassino e non ci fossimo resi conto che era lui? E se in qualche modo si fosse travestito? E se conoscesse già il maniero? Quella piccola disgastata continua a dire noi come se fosse una di noi. Non potevo crederci, anche in questa situazione di crisi quel coglione stava ancora trovando il modo di insultarmi. Stai pensando a qualcuno in particolare? Onestamente sei qui, se Aaron dice che abbiamo a che fare con un vampiro... Sono contenta di non aver detto a Ivan della mia teoria. Comunque non posso parlare con Vladimir e di Costanza e Loek in questo momento. Ma sto davvero iniziando a pensare di essere sulla strada giusta in questa indagine. Se lo tengo per me almeno proteggerò Ivan e non ne risentirà per questo. Non ne ho idea ma trovo tutto questo estremamente strano. Oh veramente, moccioso intelligente, devi aver visto ogni stagione di Supernatural per diventare una detective così abile. Diedi a Ethan uno sguardo fulminante. Troviamo tutti questa situazione un po' strana, sai qui? Ma stai tranquilla, è stato un vampiro ad attaccarci, un insolitamente potente per giunta. Credi che sia possibile che ci fossero, non so, due persone coinvolte nell'attacco? Le orecchie di tutti si drizzarono. Due? Non lo so, è vero che potrebbe aiutare a spiegare cosa è successo, ma siamo stati in grado di rilevare solo una persona alla volta. E Aaron, pensi di non aver notato un secondo individuo? Sarei sorpreso se fosse così, ma è più plausibile dell'idea che non sia un vampiro. Alcuni vampiri hanno poteri speciali, potremmo avere a che fare con una coppia in cui uno dei vampiri ha una specie di scudo di invisibilità? Come ho detto Vladimir, sarei sorpreso che fosse così. Potrebbe rivelarsi una pista nella nostra indagine, ma adesso onesti ne dubito. È stato meraviglioso sapere che avevano preso sul serio la mia teoria, forse Aaron si sarebbe imbattuto negli indizi che avrebbero portato a Loic o addirittura a Costanza, mentre continuava la sua indagine. E poi Ivan avrebbe dovuto ammettere la verità, non poteva rimproverarmi di aver inventato una teoria se alla fine avesse avuto ragione. In ogni caso il maniero è lockdown fino a nuovo avviso, l'assassino era abbastanza potente da fare questo a Beliat, il che significa che nessuno di voi noia al sicuro. La nostra priorità principale ora sarà difenderci e catturare questo pazzo. Vladimir guardò Ivan negli occhi prima di voltarsi verso di me, improvvisamente ho sentito tutto il peso della sua autorità. Mi sono spiegato? Io, sì Vladimir, Ivan. Ci fu un lungo e insopportabile silenzio, ho iniziato a preoccuparmi che Ivan avrebbe tirato fuori di nuovo Loic, ma alla fine ha semplicemente annuito. Sì. Perfetto, non appena le condizioni di Beliat si saranno stabilizzate, Rafa e le dita non lo riporteranno nella sua stanza e lo spetteranno al suo capezzale. Aaron, dobbiamo parlare delle nostre strategie difensive. E tu, Ivan, per favore, prenditi cura di sequi, va bene? Gli ordini di Vladimir ci avevano sorpreso entrambi. Ehm, certo. Non sono cieco, Ivan. Danazione. Ho notato un cambiamento nel tuo comportamento, sei più calmo ora, potrei arrivare al punto di dire che sei una persona completamente diversa, suppongo che avere un calice ti abbia dato una certa stabilità. Ho tirato un pesante sospiro di sollievo, Vladimir ancora non sapeva che la nostra relazione fosse più intima di quando sospettasse. Nice. Ma era vero, Ivan era cambiato molto negli ultimi tempi. Penso che tu stai iniziando a diventare l'uomo che dovresti essere in questo nuovo capitolo della tua vita. Continuate così e prenditi cura di lei. So che non è sempre stato facile, ma forse ne verrà fuori qualcosa di buono. Io, grazie Vladimir, vado a prenderle da bere. Possiamo usare il suo giorno principale? Come ce la siamo proprio lisciata. Come vuoi, ma attenzione intorno all'alba e non lasciare il maniero per nessun motivo. Vladimir si voltò con un'espressione soddisfatta. Non appena lo fece, Aaron iniziò a parlare e è citato. Non c'era altro da fare per il momento. Quando ho visto Ethan iniziare a preparare i suoi strumenti chirurgici, con Aaron pronto ad aiutarlo, ho capito che non avrei dovuto restare ancora a lungo. Ivan deve essersi sentito allo stesso modo perché ha cominciato ad accarezzarmi la schiena con la mano. Vieni con me, lo stabilizzeranno, lo porteranno nella sua stanza e poi lo ricuceranno... Non lo farebbero mai qui sul pavimento, non hai bisogno di vedere tutto questo. Lo seguì nella maniera... nella stanza principale, ancora un po' stordita di tutto quello che era appena successo. Poi un dubbio orribile mi è venuto in mente. Erano tutti così calmi da nascondere il fatto che le ferite di Belette erano pericolose per la vita. Sarebbero anche sopravvissuto. E c'era qualcos'altro che Ivan mi stava dicendo su Loic. L'odore di sangue era ancora su di noi quando uscimmo dall'ingresso del maniero. Il mio stinto mi diceva che era di cattivo auspicio. Compluti il capitolo. Oddio. No, niente, io sono sconvolta per sta cosa. Sinceramente, Loic mi sta proprio qua. Cioè, non lo sopporto. E quindi, che vi posso dire? Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ovviamente. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!